È stata un'emozione veramente bella parare rigore perché Gomez è un grande attaccante e prima della partita come al solito con il mister portiere abbiamo fatto un grande lavoro per studiare gli attaccanti, ho deciso di andare sull'incrocio, aveva una calciata abbastanza forte, poi appena erano parate e mi sono rialzato subito per barare anche la respinta perché oggi era fondamentale vincere e non volevo subire gol. Sì, è una vittoria pesantissima, abbiamo fallito contro la Viz Pesaro e in parte contro la Virtus da Verona che anche se erano partite fondamentali, questa era forse tra le ultime che potevamo veramente dare lo scossone per salvarci, però dobbiamo continuare a giocare con questo spirito, non dobbiamo fare come dopo il derby che dopo che abbiamo vinto 3-0 abbiamo perso delle partite, dobbiamo continuare a rimanere concentrati perché è un attimo anche se siamo in una buona posizione. Mi soddisfa molto perché per un portiere non prendere gol è il massimo, quando giochi una partita il primo obiettivo di un portiere è non prendere gol, se poi la squadra segna ci portano a casa i tre punti, ma l'obiettivo primario è non subire gol ed è stata la terza mia clean sheet, quindi voglio farne delle altre e andare alla fine dell'anno.